Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sui Static Farm canale. In questo video parleremo dell'allevamento delle tartarughe Trachemis Scripta. Le Trachemis Scripta si trovano a sud degli Stati Uniti, come Florida, Alabama e Georgia, ma li si trova sempre più spesso in Europa, in quanto le persone, dopo averle comprate piccole e carine, se ne liberano mettendoli in natura non appena crescono un po'. Esistono tre sottospecie, cioè la Trachemis Scripta Scripta, la Trachemis Scripta Elegance e la Trachemis Scripta Trovosti. E personalmente le possiedo tutte tre. Legislatura. La sottospecie Scripta è di libera vendita, ma la sottospecie Elegance, da qualche decennio, è entrata a far parte del CITES. Si presenta con il piastrone giallo, con macchie nere o verde scuro, il carapace di colore verde chiaro, nel giovani, e scuro negli adulti. La testa ha disegni gialli nella sottospecie Scripta, rosti nella sottospecie Elegance e neri grigi nella Trosti, che si scuriscono con l'età, in tutte e tre le sottospecie. Cresce per una lunghezza che supera i 30 centimetri e vive oltre 30 anni di vita. In natura vivono in gruppi, che vanno dai 5 ai 15 esemplari, tuttavia vivono benissimo anche da sole. Alimentazione. Le Trachemis sono onnivore, ma nei primi anni di vita prediligono una dieta apparentemente carnivora, ma anche con l'avanzare degli anni diventa quasi completamente vegetariana. Gli alimenti di origine animale che possiamo somministrare alle nostre tartarughe sono pesce come gambusi, latterini, carpa, carassio, trota e altri pesci d'acqua dolce. E' importante invece non esagerare con il pesce d'acqua salata. Alcuni degli insetti che possiamo somministrare sono locuste, grilli, lombrichi, vermi, larve, eccetera eccetera. La carne invece può essere pollo, manzo, anatratobi da pasto, decongelati, eccetera. E' assolutamente da evitare invece la carne di origine suina, in quanto risulta tossica. Gli alimenti che ho citato possono essere somministrati decongelati o alcuni anche vivi. I vegetali che dobbiamo somministrare alle nostre trachemis sono verdure a foglia larga come lattuga e radicchio, tarasacco, carota, zucchine, zucca, pinocchio e tanto altro. Per quanto riguarda la frutta è bene andarci cauti e non somministrarla più di due o tre volte al mese. E possono essere uva, banana, ananas, mela, eccetera eccetera. Invece sono assolutamente da evitare alimenti preconfezionati, liofilizzati ed essiccati come gammarus e pesce essiccati. Invece alimenti come stick e essiccati possono essere utilizzati come integrazione alla dieta ma non devono considerare più del 10-15% della dieta. Per quanto riguarda la frequenza dei pasti dipende dalla temperatura e dall'età del tartarughe. Per esempio un soggetto bevi deve mangiare 5 volte a settimana considerando che sarà tenuto ad una temperatura superiore ai 22 gradi e che deve crescere. Invece un adulto allevato in acquario e quindi con temperature costanti di circa 24 gradi dovrà mangiare massimo 3 volte a settimana e il cibo sarà prettamente vegetale. Al contrario un adulto allevato in laghetto che quindi effettuerà il letargo dovrà mangiare una volta a settimana a partire da fine marzo inizio aprile, cioè all'uscire dal letargo. Fin ad arrivare a 3-4 volte a settimana nel periodo di massima attività, cioè da maggio ad agosto. E di nuovo diminuire fino ad arrivare a non mangiare più da metà novembre fino a metà febbraio, cioè il periodo del letargo. Ovviamente questo vale in linea molto generale in quanto dipende dalla regione in cui si abita. Vasca e allevamento Le tre chemist sono tartarughe che crescono molto, infatti è consigliato l'allevamento in laghetto, dovranno ampi spazi per nuotare e razzolare. Tuttavia se non si possiede di un giardino o un terreno possono essere allevate in acqua terraria dove dovranno predisporre di almeno 60-70 litri al soggetto e di una zona emersa, grande almeno il doppio della tartaruga, dove sarà appuntata una lampada spot e una lampada OB per stimolare i raggi ai ultravioletti. Sono assolutamente da evitare le classiche mini vaschette con la palmetta finta perché oltre ad essere grandi meno di una tartaruga adulta non permettono l'aggiunta di parti tecniche come termoriscaldatori e lampade varie. Vi farà anche piacere sapere che in molti regolamenti comunali è vietato e quindi considerato reato allevare pesci, rettili e anfibi in volumi d'acqua inferiori di 30 litri e se è passibile di denunciare col rischio di multe salate e in alcuni casi in cui gli animali sono deceduti anche reclusione. Sarà anche indispensabile un termoriscaldatore settato ad una temperatura superiore ai 22-23 gradi in quanto questi rettili se tenuti ad una temperatura non superiore ai 10 gradi cioè lasciati in un laghetto all'esterno al contrario in casa senza un termoriscaldatore le temperature maggiori di 10 gradi ma minore di 22 la porteranno ad andare in semiletargo cioè la tartaruga smetterà di inurrirsi ma continuerà normalmente a consumare energie e quindi morirà di lì a poco distenti per di lì a poco intendo che possono essere sia settimane come mesi o comunque potrebbero ammalarsi per lo stress e poi morire in un secondo momento anche parecchi mesi dopo in quanto nei rettili le malattie possono durare molto più tempo il termoriscaldatore infatti la farà vivere tutto l'anno ad una temperatura estiva quindi ce la potremo godere belle e attive anche nei mesi più freddi sarà anche necessario un filtro sovradimensionato in quanto sono animali che sporcano molto io personalmente consiglio i filtri esterni che sono molto facili da pulire in acquario sono assolutamente da evitare convivenze con altri animali anche se io per qualche anno ho allevato qualche trachemis in un acquario da 150 litri dove allevavo anche dei carassi e delle gambusie e stranamente per quanto comunque gli animali fossero di piccole dimensioni non ho avuto alcun problema il laghetto di grandi dimensioni molto piantumato e ben strutturati potrebbe anche vivere con pesci come carassi e carpe anche se non è raro che riescano a predarli quindi è comunque sconsigliata qualsiasi tipo di convivenza dimostrismo sessuale i maschi sono di dimensioni più piccole e hanno coda lunga e stretta unghia lunghe e piastrone concavo al contrario le femmine si presentano di dimensioni maggiori con coda corta ma spessa unghia corte e piastrone piatto personalmente consiglio l'allevamento di questi animali solo a chi sa di avere lo spazio e mezzi economici per arrevarle in quanto essendo animali che possono vivere parecchi anni avranno comunque bisogno di spese sia per l'alimentazione che per l'allevamento in vasche di grandi dimensioni, spese veterinarie, eccetera per quanto riguarda l'allevamento di questi animali nel mio caso penso che ci farò parecchi video comunque in linea generale vi posso dire che ne ho parecchie decine di cui la maggior parte le allevo in campagna in alcune laghette e vasche in cemento armato qualcun'altra invece le allevo qui in città in una vasca sul terrazzo e sono 7 va bene ragazzi con questo video ho terminato come sempre vi do appuntamento al prossimo video non sono sicuro ancora su cosa tratterà probabilmente sarà l'aggiornamento per quanto riguarda l'acquario quello lì allestito a costo zero oppure sarà il video tutorial per quanto riguarda l'allestimento di un acquario di una trentina di litri in stile sudamericano o ancora sarà il tutorial per quanto riguarda la costruzione in modo fai da te e completamente a costo zero di una plafoniera a led per acquari quindi ragazzi lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti